ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video io sono fabrizio e questo oggi voglio parlarvi di project car 2 voglio parlarvi delle mie prime sensazioni le prime impressioni di questo secondo capitolo proposto dalla slide di my di studio premetto come sempre sono mie opinioni e quindi sono opinabili e che il test è stato fatto su pc parlerò in generale di quello che è così di prima kit o project car perché le features le caratteristiche e le possibilità che offre questo secondo capitolo sono davvero tantissime e bisognerebbe fare un video dedicato almeno di due ore per fare tutto il giro di quello che si può fare con questo capitolo allora inizierei a parlare del comparto fisica la fisica mi lascia un po perplesso la ricerca e la struttura che è stato fatto creato intorno alla fisica secondo me è come se fosse stata rivista praticamente da zero rispetto al primo capitolo concetto è stato rivisto come vi dicevo il tutto è molto connesso a tutto quello che c'è intorno vi spiego parlando di meteo che vedremo dopo meteodinamico con il life track le condizioni della pista e qualsiasi tipo di elemento che viene modificato sul vostro setup vengono a influenzare la fisica una fisica quindi influenzabile quindi molto coerente che porta a una guida sicuramente intuitiva a una guida sicuramente dinamica bisogna adattare il proprio stile di guida e questo è bellissimo perché porta divertimento non è monotono è una fisica che sicuramente implacabile perché in alcune occasioni non vi lascia assolutamente possibilità di sbaglio soprattutto in condizioni di meteo estreme e il che è coerente però quello che mi fa arrabbiare è che ancora oggi ci sono dei comportamenti dell'auto che non riesco a capire a capire cioè non riesco a capacitarmi come pure uscendo dai box con le gomme fredde fai una curva manco sei a 50 all'ora e ti giri cioè voglio dire nella realtà non succede e questo mi fa incavolare allora lo so che è un problema che perdura già dal primo capitolo però cavolo ragazzi cioè fate un mega mostro di titolo e vi perdete in un bicchiere d'acqua oppure non è possibile effettuare la stessa curva non per forza impegnativa allo stesso modo e nelle stesse condizioni di pista condizioni di gomma peso carico eccetera eccetera c'è sempre questa parte random non hai mai il totale controllo o comunque questa possibilità di intuire e anticipare è bene che ci sia un grado di difficoltà però cavolo non è che una macchina che tenta sempre di ucciderti ad ogni curva o che sia difficile da guidare renda per forza simulativo un gioco anzi tutt'altro a un certo punto diventa frustrante detto questo però attenzione c'è la fisica è ancora un po sottotono rispetto agli altri titoli però è ottima è solo che bisogna correggere queste questi dettagli che questi piccoli difettucci che tolgono la magia quando succedono a quello che offre attualmente project car 2 però questo comunque non toglie il gusto di guidare su project car 2 parlando di meteo per tornare sul discorso il meteo è stata la punta di diamante del primo capitolo e oggi l'hanno migliorata con questo life track 3.0 che se non ho capito male connesso direttamente le condizioni reali di pista sul tracciato che si è scelto il meteo è fatto benissimo c'è ci sono oltre 8 9 o 12 situazioni vari di di meteo si passa dalla bufera di neve alla tormenta al sole al nuvoloso poco nuvoloso insomma del vento è fatto veramente bene e la grafica si sposa benissimo con quello che si vede e la grafica questa è un'altra cosa vedremo più tardi perché questo è un altro motivo per fare un video il che in connubio con la fisica influenzata dal meteo con il meteo che si in modo dinamico e tutti gli elementi che vanno a influenzare l'auto già solo questo ragazzi io vi dico ve lo consiglio ve lo consiglio perché è fenomenale sì c'è il divettuccio che comunque te lo fa male se poi aggiungo che hanno ricampionato totalmente l'audio e il suono delle delle auto che cavolo appena metti il casco wow ti spacca le orecchie da quanto è una goduria pazzesca ragazzi è una goduria pazzesca io mi sono fatto un giro con la Huracan sul circuito di Bugatti in Francia non vuoi smettere l'unica cosa che ti va di fare è cambiare auto per vedere per sentire l'altra campionatura è fatto veramente bene cioè i ragazzi qua hanno fatto un passo da gigante ogni singola l'auto ha il suo carattere audio che è coinvolgente è fantastico hanno fatto un bel lavoro però ci sono un po' di incoerenze Gianni ce ne parlava su gt drivers problemi con incoerenze di cambio alcuni motori v12 aspirati che sono un po' incoerenti però questi sono un po' di dettagli che magari si possono correggere come succede comunque con le patch aggiusta tutto l'unica cosa che non mi piace è lo stridio delle gomme che non c'entra nulla spacca le orecchie sembra fuori contesto totalmente cioè non so dove l'hanno preso sto rumore sto suono cioè assolutamente è da cambiare l'unica cosa il resto francamente è una goduria pazzesca cioè prendete una Nissan GTR o una Huracan come vi dicevo la Ferrari veramente è fatto molto molto bene la IA è veramente random non si capisce nulla cioè o è troppo aggressiva o non lo è osa dove non deve osare non osa dove dovrebbe farlo ti sperona alcune volte tipo ti metti in pista in partenza con dei bolidi tu se sbagli la partenza bim e ti inchiappetta per essere il più educato possibile cioè voglio dire non sta né in terra né in cielo sta IA non so su cosa si siamo basati cioè proprio da rivedere totalmente peccato perché si spinge sempre i giocatori ad andare online io capisco che il racing online è quello che è però se io voglio farmi un campionato per conto mio cioè non c'è assolutamente gusto cioè devo pregare che alla prima curva non mi si speroni perché cioè non lo so eh buh da rivedere ragazzi da rivedere altra cosa che mi fa pensare ancora che i ragazzi della slide di studio sono diretti sempre sull'online il che non è negativo eh però è tutto là è la carriera la carriera è come se fossi te buttata lì firmi un contratto ti fai le tue te carette sblocchi un attimino le varie serie le categorie di auto nessuna carota molto impersonale nessuna cosa che ti spinga ad andare avanti nulla e quindi IA catastrofica carriera impersonale ti resta che? le leaderboard e l'online peccato c'è un pezzo mancante del puzzle importante che va a completare forse un quadro che potrebbe essere molto interessante da guardare scusate la metafora però cavolo siamo sempre lì offline è zero ma perché? cioè mi chiedo perché? e poi come mai i ragazzi cioè il world mass effect è fatto per da la gente che vuole dice consiglia e fa è possibile che tutta la comunità ah vabbè l'offline non ce ne frega niente non è possibile peccato spero che possano fare qualcosa per migliorare e la carriera e l'intelligenza artificiale forse feedback c'è un elemento così importante veramente sottotono mi spiego meglio sto gioco come vi anticipavo si può fare la qualunque ci sono categorie di macchine cose personalizzazione veramente è pazzesco e qua il lavoro è mostruoso veramente c'è pesante c'è qualcosa si sente bene che insomma c'è ricerca però il forse feedback ma magari sarò io che sono troppo esigente però piuttosto che avere una sensazione di connessione con l'asfalto e le gomme è come se fosse più una percezione di quello che succede in pista non so se riesco a spiegarmi malgrado abbiano creato la possibilità di selezionare tra force feedback simulativo informativo grezzo eccetera con tutti i parametri che è fantastico io ci saresti due ore per cercare di perfezionare al massimo il tuo force feedback cavolo vai giù in pista tra una cosa e un'altra è che senti la differenza e non c'è sta connessione reale potrei nominare race room che ha il suo carattere che il suo force feedback ha il suo carattere proprio la sua identità come assetto corsa e r factor ma anche la formula 1 e qui sta sensazione di molliccio non lo so è come se mancasse quel pizzico di sale a dirti cavolo che figata porca miseria peccato ma peccato ragazzi io non so magari provatelo voi e ditemi Fabri ti stai facendo delle pippe astronomiche è fantastico magari sono io però le sensazioni che ho attualmente sono queste ed è un peccato perché vi assicuro non ve li faccio vedere i menu però se vedete tutte le configurazioni che si possono fare le modifiche è assurdo cioè è mostruoso eppure boh oltre al force feedback invece che non è da buttare occhio eh è come per la fisica non è da buttare è peccato è come se sono lì pronti a dare il santo gralle del force feedback però manca qualcosa è la stessa cosa per la fisica e poi c'è una cosa che mi è piaciuto moltissimo è l'ingegnere di pista l'ingegnere di pista è quello che vi consiglia in base alle domande che vi fa e in base ai problemi che avete vi consiglia cosa fare cosa modificare ed è molto coerente perché io ho provato a a fargli lo scherzetto ah mi manca portanza su una formula junior e subito mi ha detto ah devi cambiare la posizione delle ali posteriori e subito però siccome le ali posteriori non sono presenti in questa macchina devi andare a modificare queste quindi molto molto coerenti soprattutto quello che mi piace è che comunque con le indicazioni che ti dà ti dà la possibilità di volgarizzare certi termini che non tutti capiscono e conoscono cioè c'è fisica applicata e matematica analisi 5 che bisogna avere una laurea in informatica matematica per capire certe cose quindi apre comunque un mondo a quei novizi e alle persone che non sono per forza del settore a poter comunque regolare un'auto in cui non serve fortuna ma bisogna avere conoscenza ben precisa di quello che è il setup e come funziona quindi secondo me è una soluzione che Sly di Mighty Studio ha dato come aveva fatto a Setto Corsa se cambi questo a IE questo più o meno questo insomma qui è un po' più spinto ed è molto bello senza togliere il gusto a quelli che conoscono come funziona un setup di poterselo modificare manualmente quindi bravi alla Sly di Mighty Studio perché hanno fatto un egregio lavoro queste le features in generale come dicevo in grandi linee volevo parlare insomma di quello che mi ha colpito di più quello che mi ha colpito di meno non voglio parlare del multiplayer perché qui realmente si apre un mondo vabbè vi anticipo un po' ci sono due slot che possono essere riservati per un commentatore e uno che fa il registra insomma ci sono delle features che sono davvero interessanti ma questo magari lo vedremo più in là a livello di contenuti 170 auto mi pare di base più 5 o 6 DLC previsti con il Season Pass ci sono 70 circuiti compresi layout dei vari circuiti mi viene in mente Silverstone nazionale piuttosto che quello il Grand Prix normale insomma il titolo è veramente cospicuo e qua è presente ragazzi il lavoro cioè io onestamente ve lo dico questo è un must have senza ombra di dubbio pur avendo i suoi difettucci è un titolo che si farà amare lo avrete nella vostra libreria Steam o Playstation o quello che è io ve lo consiglio assolutamente e ci ho giocato solo 5-6 ore quindi ancora lo devo veramente scoprire bene però volevo comunque anticiparvi un pochettino di quelle che sono le sensazioni perché comunque distinto uno subito riesce a capire se uno sarà fedele o meno ad un gioco nel futuro non vi parlo della realtà virtuale perché non ho avuto modo ancora di testarlo ho solo visto un po' a destra a sinistra sul tubo dei vari test di alcuni youtuber che seguo cercherò di fare un test e di parlare in un modo un po' più approfondito di quelle che sono le altre caratteristiche di questo gioco non esiterò a fare il gameplay non esitare ragazzi a commentare a dirmi a inveire su di me se tutto quello che vi ho detto non vi piace però se il video vi è piaciuto ragazzi un pollicino in su come al solito non esitate a commentarvi e ricordate iscrivetevi ragazzi tanto è gratuito per adesso chiuderei qui il video io vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito un abbraccio a tutti ciao da Fabrice alla prossima ciao